Quello piccolo modesto garage costituiva una miniera d'oro per due cittadini della Serbia residenti nel Vicentino, rispettivamente a Schiavone Altavilla, un tesoro in marijuana da rivendere sul mercato. Sono in tutto 78 kg di sostanze stupefacenti sequestrati sabato dalle fiamme gialle di Vicenza che hanno scoperchiato 25 scatoloni zetti di droga leggera tra Montecchio Maggiore Creazio in due box auto interrati di proprietà di SS 54 anni e PM 53 anni, due amici incensurati nati nell'ex Jugoslavia. L'operazione è andata in porto lo scorso weekend dopo che i finanziari perici avevano avuto la notizia di un giro sospetto a Montecchio Maggiore. Operazioni di carico e scarico scatole tra l'arco in periodo di lockdown. I contatti noti tra i due serbi già sotto osservazione avrebbero portato ad un secondo blitz in un'altra rimessa a Creazio dove 53 kg già sequestrati se ne sono aggiunti 25. La marijuana era contenuta in 143 involucri chiusi ermeticamente. Difficile definire il controvalore sul mercato. Per i due incensurati, tra i quali uno dei due risulta particolare in Italia, l'altro insospettabile titolare di un'azienda edile, sono scattate le manette per l'arresto in flagranza di reato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.